buongiorno a tutti gli amici di youtube e benvenuti in un nuovo video tutorial da un po che non ne faccio di questo vi chiedo scusa però oggi volevo riprendere un attimino il filone dei tutorial perché mi sono reso conto di avere tralasciato alcuni tutorial alcuni modi per fare cose che secondo me sono utili come complemento appunto dei tutorial che ho già fatto e a tal proposito oggi andiamo a vedere in modo semplice come andare a modificare l'indirizzo ip del nostro computer perché una persona un appassionato dovrebbe andare a modificare il suo indirizzo ip innanzitutto per renderlo statico quindi per non farlo cambiare ogni volta che spegniamo accendiamo il computer vi ricordate i vecchi tutorial che avevo fatto sia sull'apertura delle porte su fastweb sia su la tipologia degli indirizzi ip questo perché l'indirizzo ip statico privato quindi l'indirizzo statico della nostra rete privata consente di andare a creare in modo semplice dei server virtuali dal computer che stiamo dal computer che stiamo usando ad esempio facciamo un esempio voglio aprire un server di minecraft posso aprirlo direttamente dal mio pc e aprendo le porte riferite al mio indirizzo ip fisso del computer posso rendere questo server disponibile su internet tutte le volte che voglio non devo tutte le volte andare a cambiare l'ip nel pannello di controllo del router ma bensì basta una sola volta e il gioco è fatto quindi questo anche per gli vari servizi peer to peer quali ad esempio il vecchio mule e altri altri tipi di servizi io mi trovo molto bene come con questo tipo di indirizzi privati è possibile appunto creare i propri servizi rendere disponibili su internet quindi un'ottima cosa può essere utile secondo me come come tutorial però vabbè bando alle ciance andiamo a toccare con mano e a fare la modifica con mano quindi dobbiamo andare innanzitutto a rendere statico il nostro ip quindi per prima cosa dobbiamo andare noi siamo su windows 10 creative dobbiamo andare su impostazioni rete di internet e modifica opzioni scheda quindi passaggio 112 clicchiamo qui c'è una rete attenzione perché di solito molti di voi avranno anche la wifi ecco noi andiamo solo cablata penso che i concetti siano uguali anche per le t wifi ma non ne sono sicuro sinceramente quindi per adesso andiamo a vedere solo la la rete cablata quindi tasto destro proprietà proprietà dovete essere comunque amministratori del computer di solito per chi ha un pc il suo lo si è andiamo fino a protocollo internet versione 4 tcpp versione 4 proprietà qui adesso vedete la mia configurazione di solito di solito che cosa succede dobbiamo andare cioè lo scenario principale è questo quindi ottieni automaticamente un indirizzo ip dal router e ottieni un indirizzo sdns automaticamente e praticamente è questo la parte centrale ora dobbiamo andare a riempire questi campi per riempire questi campi la prima cosa che dobbiamo sapere è che indirizzo ip da la nostra macchina dove sapete che gli indirizzi ip devono essere univoci non possono esserci due o più ip nella stessa proprio due ip uguali nella stessa rete di conseguenza dobbiamo essere attenti a creare degli indirizzi giusti come regola generale io ad esempio metto i numeri finali progressivi quindi se il mio pc è uno il portato sarà il 2 l'altro pc sarà il 3 eccetera eccetera e quindi fatto questo prima prima però dobbiamo andare a vedere come è fatto l'ip del nostro gateway per andare a vedere l'ip del nostro gateway da adesso dobbiamo andare a vedere andare a vedere le proprietà della connessione quindi di nuovo con impostazioni di rete di internet quindi da qui eccole qua le proprietà quindi qui voi probabilmente questo qui è il allora vediamo un attimo andare a vedere le caratteristiche quindi le proprietà quindi andare sul pannello di controllo mi pare dobbiamo andare a vedere le proprietà di rete di rete di connessioni doppio clic esatto quindi praticamente dobbiamo fare ecco tornando tornando di là scusatemi dobbiamo andare di nuovo qui impostazioni di rete di internet modifico opzioni di scheda doppio clic e dettagli i dettagli praticamente vi faranno vedere qui il gateway predefinito ipv4 l'indirizzo del vostro gateway quindi dovete obbedire a quel tipo di gateway e soprattutto la subnet mask quindi dovete copiare questi due parametri il parametro subnet mask dovrete metterlo necessariamente vediamo un attimo se ok dovete metterlo necessariamente qui quindi ad esempio se la vostra subnet mask era questa 255 dovete metterla qui il gateway predefinito invece lo dovete mettere qui qui ad esempio di solito il gateway predefinito è un 1916801 solitamente quindi lo trovate scritto qui mentre invece la subnet è questa qua la mia rete è un po' diversa la mia rete è 10.0.0 quindi io le ho copiate in questo modo fatto questo dobbiamo andare a scegliere quindi un indirizzo ipv4 che rispetti questa subnet quindi potrebbe essere se il vostro esempio è un 19168 potrebbe essere un 19168.4.1 questo potrebbe essere un indirizzo ipv4 rispetto alla subnet mask e rispetto al fatto che abbiamo un gateway predefinito altra cosa se dobbiamo per forza necessariamente inserire dei server dns questo è perché una volta che andiamo a modificare l'indirizzo ipv4 dobbiamo come regola generale andare a intervenire sugli indirizzi server dns come regola generale vi consiglio di mettere come server dns preferito questo che è il gateway quindi copiamo praticamente il gateway quindi vuol dire che il nostro computer chiederà la risoluzione dei nomi al router quindi ha agile dns che ha già router come secondo indirizzo io metto il primo server di open dns che è questo 208 67 222 222 come mia regola generale voi potete fare anche altro potete mettere un altro un altro dns se volete io di solito metto questo proprio per diciamo per ridondanza nulla vi vieta di scambiarli anzi di solito conviene scambiarli questo perché open dns è un dns aperto quindi può tenere traccia può può farvi vedere alcuni siti web che di solito sono oscurati o non sono non sono più validi ok dopo una volta fatto questo convalidiamo le impostazioni all'uscita e clicchiamo ok da quel momento in poi l'ip diventa statico con l'indirizzo che avete scelto con tutti i parametri se volete fare una prova di riavvio potete farla tranquillamente anzi vi conviene che così testate se effettivamente l'ip rimane statico quindi andate a riavviare il computer poi una volta una volta tutto riavviato tornate di nuovo qui fate impostazioni rete di internet modifica opzioni scheda doppio clic e dettagli quindi se nei dettagli trovate la stessa cosa vuol dire che l'avete fatto bene il lavoro è andato a buon fine avete avete creato avete reso postati col vostro ip quindi il tutorial è andato a buon fine e se avete delle domande se avete dei consigli dei dubbi se avete qualcosa che non è chiaro o che non avete capito qualcosa non fatevi problemi assolutamente a scrivermi nei commenti cercherò di rispondere a tutti nei limiti del possibile ovviamente ma credo di poter riuscire a rispondere a tutti se volete se c'è qualche concetto che non ho espresso bene magari fatelo sapere creerò un video dedicato e e sono contento di tornare a fare tutorial che tra da un po che non ne facevo e e spero di continuare a questa questa striscia di di video perché mi piacciono davvero tanto non mi impegnano molto appunto di vista del del montaggio e sono anche carini possono essere utili ok allora io voglio voglio intanto ringraziare paolo rossi lele manuele e valentina ringraziare per descrizione grazie mille davvero siete gentilissimi spero che i video che faccio vi piacciono e spero che continuarete con me questa magnifica esperienza io ragazzi come al solito vi vi saluto vi ringrazio tantissimo venite a visitare la mia pagina facebook come tiang youtube nel mio canso twitter a terentia ci vediamo per un prossimo tutorial e soprattutto domani sera ci sarà la live in cui andrò a elencare alcune novità del canale mi sono preso un periodo di tempo abbastanza abbastanza elevato però comunque domani sera ne parleremo in live quindi se volete farmi qualche domanda dal vivo vi risponderò dal vivo ragazzi è stato un piacere ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi da metty hang grazie a tutti ciao